La variante delta o indiana del covid è arrivata anche in Abruzzo. Al momento i casi sono 5, 2 in provincia di Chieti, uno registrato nei giorni scorsi ed uno a vasto proprio in queste ore, oggi pomeriggio. 3 invece, notizia di oggi, anche in questo caso nel Terramano. A renderlo noto è la stessa azienda sanitaria che a seguito del focolaio che si è sviluppato qualche giorno fa a Villapetto, una frazione di Colledara, ha eseguito 250 tamponi su tutto il territorio e parte della città di Terramo, seguendo il tracciamento dei positivi. In totale sono risultate positive 11 persone, di cui 3 contagiate dalla variante indiana, 2 a Terramo e 1 a Colledara. Da quello che si sa, la cosiddetta variante delta ha una capacità di contagio superiore alle altre varianti, per cui si teme che il bilancio si possa aggravare. Al momento tuttavia la curva epidemiologica risulta stabile.